Ben ritrovati amici del centro meteo italiano, ultime piogge e nevicate sulla nostra penisola a causa del transito di una goccia fredda sull'Adriatico, la quale però si sta progressivamente allontanando verso i Balcani. Tempi in miglioramento quindi sull'Italia, ad iniziare dalle regioni settentrionali, con i prossimi giorni che saranno caratterizzati dal tempo generalmente stabile seppur ancora fresco, per via della rimonta dell'anticiclone proprio a ovest della nostra penisola. Vediamo però ora in dettaglio con l'ausilio della grafica le previsioni per domani, giovedì 21 settembre. Al mattino sole prevalente su tutta Italia, salvo qualche innocua nube sparsa sul delta del Po, come anche tra Puglia, Calabria e Sicilia. Isolati rovesci potrebbero bagnare solamente le coste molisane e garganiche. Condizioni di tempo stabile e soleggiato anche al pomeriggio, specie sulle coste e sulle pianure, mentre qualche addensamento in più potrebbe formarsi sulle zone interne, specie appenniniche, senza fenomeni di rilievo. In serata la situazione non è destinata a cambiare, con ampi spazi di sereno, salvo locali nubi sulle zone interne del centro-sud. Anche in nottata i cieli continueranno a rimanere sereni, come potete vedere dalla carta qui a fianco. Per quello che riguarda le temperature, queste tenderanno a diminuire nei valori minimi su tutta Italia, mentre le massime non subiranno variazioni o aumenteranno leggermente da nord a sud. Seguite dunque tutti i prossimi aggiornamenti sul nostro sito oppure scaricando la nostra app gratuita Meteo, per avere tutte le previsioni dettagliate per le vostre località. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.